Sabato 29 dalle 12 alle 18 Azzate si tuffa nell'atmosfera, nei colori, nei giochi, nella musica e soprattutto nei sapori olandesi. Ad Azzate il 29, appunto sabato 29 aprile ci sarà la festa del re, festa olandese che finalmente dopo 4 anni di stop pandemico si ritrova, ci ritroviamo in piazza per festeggiare assieme agli amici olandesi questa bellissima festa che porta tanto colore, tanta armonia, più che altro anche per i bambini che faranno il loro mercatino e poi ci sarà tanto da mangiare, da gustare i sapori olandesi.